City Rapport Seconda parte, cari amici del Tubo, sempre a Carpiano, Hotel Amérique, l'hotel dell'amore sulla strada dell'amore, l'amore è un po' trash, insieme a Dermes e a Paolo Rusconi andiamo a visitare la seconda parte e passiamo dal Ponte dei Sospiri che è questo qua, seguitici, andiamo City Rapport